Salve a tutti, mi chiamo Andrea Sartoretti e sono il direttore generale di Molena Volley, una società di pallavolo, la più storica, la più prestigiosa, dove ho avuto anche il piacere di giocarci. Parleremo di team insieme a voi, parleremo del lavoro di squadra e lo farò basandomi principalmente su quelle che sono state le mie esperienze, sia da giocatore che da dirigente. Quello che ho potuto vedere e verificare è che sia in campo che fuori le similitudini sono tantissime. Quando si lavora in squadra bisogna lavorare e cercare da ognuno di noi il 100%. È solo così che si possono ottenere dei risultati.